L'Italia è piena di tantissimi bravi social media manager e anzi questo video non se la vuole prendere con loro ma vuole enfatizzare la bravura di quelli veramente forti. Oggi se qualcuno come me ho fatto l'altro giorno andasse a cercare una soluzione per migliorare la propria copertura organica su Facebook trova sì delle guide ma che sono un po' limitate, un po' scontate, basale su opinioni, rimaneggiate dando chissà quale interpretazione personale. Sta di fatto che io mi sono trovato nella condizione di dover riparare a un problema che avevo su alcune pagine di Facebook e quindi ho cercato una soluzione rapida, qualcosa che mi potesse subito riportare un pochino a avere una copertura organica decente. Tutto questo è successo verso la fine del mese di agosto quindi probabilmente c'è stato un upgrade sull'algoritmo di Facebook. Io sono completamente all'oscuro di quello che accade dentro Facebook da quel punto di vista perché non sono, non mi ritengo un esperto dell'algoritmo di Facebook ma sì di algoritmi. Quindi visto che non ho trovato una soluzione plausibile o comunque già accertata da qualcuno ho pensato di fare un qualcosa fai da te. Per fare questo test ho semplicemente analizzato le pagine come in questo caso era la mia personale che andavano un pochino meglio e l'ho confrontata su quelle che invece avevano avuto una perdita di copertura molto alta. Ho cercato ovviamente delle correlazioni e sono partito da quella che è l'opinione un pochino più comune tra quelli addetti ai lavori che anch'io condivido. Quest'opinione prevede il fatto che a un certo punto della pubblicazione del nostro post su Facebook questo venga analizzato e poi distribuito a una percentuale di utenti. A seconda di quanti sono gli utenti di questa percentuale che poi vanno ad interagire con il post questo riceverà un aumento di distribuzione presso un altro numero di utenti. Man mano che le interazioni crescono questa percentuale aumenta e aumenta sempre di più. Purtroppo ho toccato con mano e mi sono reso conto che questa ipotesi non funziona. Come posso dire questo? Semplicemente guardando elencati tutti i post che ho fatto ultimamente ho controllato quali erano e quante erano le interazioni su alcuni di essi e ho preso un caso che smonta tutta l'ipotesi ovvero semplicemente un post dove non ci sono state assolutamente interazioni che ha fatto più copertura rispetto a uno che ha invece un buon numero di interazioni. Ok quelli più bravi mi diranno sì però poi bisogna vedere dipende dal numero di interazioni, da quale interazione, se è un post, se è una condivisione, se è un mi piace, se è una visualizzazione, se c'è un commento, è vero tutto questo lo sappiamo che va valutato però io adesso parto dalla base cioè zero interazioni ho fatto più copertura rispetto a uno che ha dieci interazioni che possono essere di vario tipo. Allora semplicemente che cosa ho fatto? Come dicevo ho preso la mia pagina che invece funzionava e che mostrava il post a un buon numero di utenti rispetto a quanti sono i likers della pagina diciamo circa un 20%. Una volta capite le caratteristiche ovvero semplicemente lunghezza del testo, hashtag, qualità dell'immagine ho pensato di cambiare quella che era la diciamo linea editoriale delle pagine che stavano scendendo allineandola a quella della pagina che stava funzionando. Immediatamente praticamente al post al primo post successivo ho notato un miglioramento. Il primo miglioramento è dato da un errore che compivo io già in fase di creazione nella vecchia linea editoriale ovvero mettevamo probabilmente una quantità di testo troppo alta nell'immagine ma è anche vero che questa quantità di testo andava nei post diciamo di questa pagina anche prima del calo quindi probabilmente c'è stato in quel caso un aggiustamento del parametro che monitora la quantità di testo. Diciamo che se prima il valore era 10 oggi l'hanno portato a 12 e quindi lo stesso quantità di testo ad oggi viene un pochino penalizzato rispetto ai giorni precedenti. Come potete vedere dalle slide che seguono vi renderete conto che la copertura organica dei post di queste pagine è aumentata notevolmente in questi giorni da quando abbiamo cambiato le linee guida. Tutto questo è legato al fatto anche che abbiamo tolto tutti quelli che sono i link esterni probabilmente è nell'interesse di facebook mantenere i suoi utenti all'interno e quindi linkare hashtag oppure linkare prodotti o pagine o ulteriori pagine o ulteriori post che comunque fanno rimanere l'utente all'interno di facebook è sicuramente un migliorativo ma noi in questi post non abbiamo messo nessun link per cercare di partire da quella che potrebbe essere la massima purezza dell'articolo. Un altro fattore che abbiamo convenuto sia efficace è quello di mostrare una persona all'interno della foto ma semplicemente l'ho poi correlata a un altro aspetto pubblicando un post specifico che trovate nella mia pagina che parla del colore rosa. Quando facebook riesce a individuare una persona o parte di un corpo all'interno di una pagina parliamo anche che possono essere semplicemente le mani sì perché il controllo sembra viene effettuato sulla quantità di rosa che c'è all'interno delle immagini. Questo è un test che ho voluto provare perché è lo stesso che utilizzano per filtrare le immagini pornografiche rispetto a quelle normali. Cioè una persona che in teoria è in costume su facebook viene in qualche modo penalizzata rispetto a una persona che invece è vestita non perché riesca a riconoscere che quella persona in costume ma semplicemente perché c'è più parte del corpo esposta e la quantità del rosa all'interno della pagina è più alta. Ho simulato diciamo questa tipologia di controllo semplicemente creando un post dove c'erano due oggetti rosa all'interno del contenuto incluse anche le mani della persona che li teneva però non c'era effettivamente né un viso né un corpo intero e quel post ha avuto una quantità e percentuale di copertura organica più alta rispetto ad altri. Riguardo all'interazione è possibile che qualcuno possa anche dire sì va bene ok se fosse la versione iniziale a funzionare cioè quella più interazione più copertura organica potremmo collegarla anche al fatto di dire ok se io pubblico il mio post e lo sponsorizzo sicuramente potrei avere delle interazioni perché ho verticalizzato molto il pubblico che lo sta visualizzando e quindi farei interazioni aumenterei copertura organica non c'è correlazione nemmeno in questo caso anche perché un algoritmo perfettamente funzionante saprebbe ben distinguere quali sarebbero le interazioni che arrivano da una campagna o quelle che arrivano da una copertura organica normale. In conclusione vorrei fare anche una piccola premessa a un video che farò più avanti che parlerà del google learning perché io sono invece un grosso sostenitore dello studio del know how della conoscenza in generale e sì in alcuni casi come in questo mi trovo a fare google learning ma so benissimo che non posso affidarmi totalmente a quelle che sono le fonti diciamo meglio posizionate su google. 9 volte su 10 infatti mi rivolgo a un amico esperto o comunque un consulente esterno a pagamento per ottenere delle risposte molto più veritiere quindi ricordatevi sempre che va bene google learning ma studiate informatevi leggete libri e appoggiatevi a esperti veri di settore. Ah dimenticavo vorrei fare un appello anche a quelli che sono i veri social media manager cioè le persone che hanno i dati quelli veri e che possono fare un confronto non su una o tre o quattro pagine come ho fatto io ma su decine di pagine e quindi vorrei sapere da parte loro se questa cosa un pochino gli torna cioè se è vero che dopo l'ultimo update c'è stato un aumento del controllo sulla quantità di testo e quindi a parità di immagini che venivano pubblicate su una linea editoriale precedente si è verificato un piccolo peggioramento e tra l'altro se ci sono anche delle correlazioni sulla quantità di testo e sul link che rimandano verso l'esterno piuttosto che su pagine interne di facebook ringrazio anticipatamente quelli che vorranno fornire i loro dati e metterli in condivisione con la comunità dei miei lettori perché so che sono dati molto sensibili e di estremo valore ci vediamo domani e mi raccomando iscrivetevi al canale condividete e dateci sempre spunti per nuovi video ciao